Ghiuti da centrale per AX partita molto agressiva Olympus fa nel centro per Vieira ci mette la mano Vecchione Vanin riesce a sbucciare via Vanin dentro Vecchione col piede benvenuto accena il contropiede benvenuto se ne va benvenuto la conclusione Vieira Vieira se Vanin a destra la vedo la serve Vanin Vieira ancora palla d'Azzo con la suola per Vieira 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 la mette dentro Gruti che aggancia il pallone lo protegge per far salire la squadra l'elemento scotta nella metà campo del kick off Chiesa protegge palla finisce a terra si è appunta di Bella come seguito il diretto di gara Azzo Azzo e c'è il ragottio del kick off che mette in angolo Chiesa la mette dentro e ce la mette di Gimena Blanco Lisi a Chiesa ancora Lisi con Poselli perde palla davanti a Vanin la rimette dentro arriva il gol Angelica Di Biasi lancia lungo il tercettato da Giulia Lisi in out rimessa la travi per il kick off Guti per Vanin prova l'insiedimento Ieira e Vanin ne approfitta ancora Quattro Azzo chiama il pressing Roberto Lelli il kick off riesce a disimpegnare Vanin si accentra ora è non ad avere campo dentro per Vanin si chiude la triangolazione arriva il punto gol del kick off San Giovanni Viera Belli torsia di sinistra Belli la mette dentro c'è Azz e arriva la Belli a Guti Guti l'apertura a sinistra per Nona pallonetta liberale San Giovanni il pallo di San Giovanni Apre per Dupui Dupui per Blanco intercetta Guti Ascolta per Guti e Nona Blanco se ne va Blanco la mette dentro benvenuto Lisi l'apertura Agostino a Chiesa la visione di Vanin Lisi supera la mette a campo la conclusione di Lisi e ce l'ho da rete un po' a Lisi bravo a mandarla verso Chiesa c'è rabbia Roberto Lelli Lisi e rossa la inzacchia 13 secondi al termine della partita Olympus 3 Picot 7 al pavoggiata Blanco l'apertura per Dupui Dupui ancora per Blanco c'è Pomposelli avanza e tira e arriva la quarta rete